Torino-Milan minuto numero 27 Il Milan avanti con la massima punizione dagli 11 metri decretata da guida Su atterramento di Leao e al diciannovesimo come possiamo vedere dalla grafica Christophe Piontek trasforma per il vantaggio rosso-nero all'Olimpico Grande Torino Questa è la correct score, 20 euro di perdita Sull'esito finale invece ci sono 162 euro in tasca Con il Milan quotato a 3,15 in prematch Quindi un'occasione interessante Dato quello che effettivamente sta dicendo anche la partita Con un Milan decisamente lucido, intelligente nella manovra Ottimi gli spunti dei rosso-neri, ben messi in campo E vicinissimi anche il raddoppio dopo il rigore molto discusso Tra l'altro di Leao, l'arbitro guida Dopo un consulto al VAR Ha di fatto confermato il rigore per il Milan Milan che sta conducendo 1-0 In questo giovedì a Torino Con il Toro Una sfida comunque che ha ancora molto da dire Tra il Toro e il Milan Andiamo a vedere anche le statistiche tramite Bet365 Oltrepassata la mezz'ora di gioco Eccole qui le statistiche Che vedono un netto dominio da parte del Milan Due tiri in porta contro gli 0 dei Granata Quattro tiri fuori porta per gli uomini di Giampaolo Contro gli 0 degli uomini di Mazzari Il 62% di possesso palla per i Meneghini Contro il 38% dei Torinesi Due ammunizioni per il Toro Una per il Milan Risultato fissato sull'1-0 Quando mancano circa 13 minuti Al termine della prima frazione di gioco Una quota decisamente molto generosa Molto interessante Per il Milan all'Olimpico Grande Torino E una quota sfruttata al meglio Con un Milan non solo in vantaggio Ma anche meritatamente in vantaggio Per quello che si sta vedendo in questo preciso momento Questa invece è la giocata tra la Celta Vigo e l'Espagnol Match deciso al 48esimo minuto da Pedrosa 32 euro di perdita circa sull'esito finale 16 euro sul risultato esatto Non mi convinceva particolarmente Questo match Vedevo piuttosto bene l'Espagnol Una Celta in difficoltà nel primo tempo Con tanta tanta fatica A cercare delle manovre classiche Che di solito portano la Celta in vantaggio Qualche sortita offensiva c'è stata Ma nulla di eclatante Onde per cui ho tenuto una piccola considerazione Per il la Celta Ma gran parte dell'esito finale È stato chiuso Arriverà quindi una perdita di circa 32 euro sul esito finale A meno di clamorosissimi Colpi di scena in questi istanti finali E quindi nel complesso Sono 16 euro di perdita circa E fa parte del gioco Dobbiamo accettarlo L'importante è sapersi comportare In ogni condizione In ogni maniera E se non ci si sente convinti Anche perché lo studio sta andando Non sta andando completamente Non è completamente lineare A quello che sto vedendo Stiamo vedendo in campo Preferisco prendere una piccola perdita E non andare oltre Quindi in questo caso 15-16 euro di perdita Dobbiamo accettarlo Fa parte del gioco Senza assolutamente Nessuna paura Nessun timore Non dobbiamo mai Vivere il betting exchange Come una scommessa Ma come un investimento Quindi questi 16 euro Pazienza Si recupereranno Tranquillamente e serenamente Poi la giornata comunque Tra i due match giocati oggi Si chiude in ogni caso Positivamente Quindi poco male Rimanendo in tema di Celta Vigo Un dato curioso Che riguarda L'ultimo anno di trasferte Del Celta Vigo Cronicamente Fa una grande fatica A vincere fuori casa L'unica vittoria esterna Risale all'8 dicembre 2018 A Villa Reala Con un 3-2 Punteggio che ha sorriso In quella circostanza Alla Celta di Vigo L'ultima e l'unica Trasferta in gare ufficiali Che ha dato i tre punti Ai galiziani Per il resto Solo sconfitte e pareggi Alcuni anche prestigiosi Come il pareggio di Siviglia Come l'ultimo pareggio Alla Wanda Metropolitano Di Madrid Ricordo in particolar modo La trasferta di Siviglia Dove Siviglia Dominò Attaccò E fece tantissimi tiri In porta Arrivò al gol Del vantaggio Sul finale Poi la Celta di Vigo Che era sempre rimasto Sornione E curante Dello 0-0 Riuscì a pareggiare Dopo pochissimi minuti Per la beffa incredibile Della Siviglia Siviglia che In maniera Altrettanto incredibile Si è fatto Rimontare Dalle Ibar Nell'ultima partita Da 0-2 A 3-2 In maniera anche Piuttosto Goffaro Cambolesca Soprattutto Sul secondo Ed il terzo Gol Con un Lopeteghi Davvero Inbestialito In panchina Ma rimaniamo In tema di SELTA Vigo Cronicamente Fa una grande fatica Questa squadra Ad avere La meglio Sul proprio avversario Fuori casa E ovviamente È un dato storico Importante Che può essere Ben sfruttato Nel trading sportivo Nel betting Exchange Questi sono dati Importanti Sui quali Bisogna Riflettere Studiare Vedere Come sfruttarli Ovviamente L'avere una SELTA di Vigo Così tanto In difficoltà Con qualunque squadra Pensiamo Alla trasferta Con l'Uesca Terminata 3-3 Ma pensiamo Anche alla sconfitta 4-2 Col Raio Vallecano Pensiamo Alla doppia Sconfitta Nel giro Di pochissimi Giorni Con la reala Sossidata Tra la Coppa Del Rey E la Liga Insomma È davvero Una scelta Di vivo Che Nell'ultimo anno Ha fatto Ben poco Fuori casa E quindi Sono dati Che assemblati Ad altri dati Con una buona lettura Della partita Con un buono Sfruttamento Delle quote Sicuramente Possono dare Dei buoni effetti Dei buoni esiti Positivi Quando ci ritroviamo Nelle giuste condizioni Nelle trasferte Del SELTA Vigo Fin quando Ovviamente Non cambierà Il trend In atto Da un anno A questa parte Staremo a vedere Se il SELTA Di Vigo Da qui Alla termine Del 2019 Riuscirà A far sua Almeno Una delle prossime Trasferte Di Liga